Le divisioni nella Chiesa, le divisioni tra cristiani, non sono un fenomeno in qualche modo naturale, inevitabile. Sono divisioni che feriscono il corpo di Cristo, feriscono la testimonianza che siamo chiamati a rendergli nel mondo. Parole accorate, quelle di Papa Francesco nell'Omelia dei Vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura, a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. La liturgia dei Vespri si è aperta con la preghiera davanti al sepolcro dell'Apostolo delle Genti, del Papa, del Metropolita Gennadios, rappresentante del Patriarcato Ecumenico e dell'Arcivescovo Anglicano David Moxon, in rappresentanza di tutte le chiese e comunità ecclesiali presenti. Nel corso della liturgia si sono alternati alla lettura delle preghiere molti rappresentanti di diverse chiese cristiane e al termine il Papa nella sua omelia ha ricordato il tema della settimana di preghiera, è forse diviso il Cristo tratto dalla prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Questa sera, mentre siamo qui riuniti in preghiera, avvertiamo che Cristo, che non può essere diviso, vuole attirarci a sé, verso i sentimenti del suo cuore, verso il suo totale e confidente abbandono nelle mani del Padre. Tutti noi siamo stati danneggiati delle divisioni. Tutti noi non vogliamo diventare uno scandalo. Per questo tutti noi camminiamo insieme fraternalmente la strada verso l'unità. e camminare insieme è già fare unità. Un'unità che viene dallo Spirito Santo, il solo che può portare ai cristiani una diversità riconciliata. Quindi Papa Francesco ha ricordato i beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, che proclamerà santi il 27 aprile e la loro opera per la causa dell'unità. Papa Roncalli ha aperto vie nuove e prima quasi impensate, mentre Papa Voitioa ha proposto il dialogo ecumenico come dimensione ordinaria e imprescindibile della vita di ogni chiesa particolare. A conclusione dell'Omelia, il Pontefice ha invitato a pregare il Signore per chi aiuti tutti i cristiani in questa strada dell'unità. Se noi non camminiamo insieme, se noi non preghiamo gli uni per gli altri, se noi non lavoriamo insieme in tanta cosa che possiamo fare in questo mondo, per il popolo di Dio l'unità non verrà. Si fa in questo cammino ogni passo e non la facciamo noi, la fa lo Spirito Santo che vede la nostra buona volontà.